Dio, mirabile in tutte le sue opere, sia con voi e con il tuo spirito. Nel disegno di Dio creatore, anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza, che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi, si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio, per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali con gli uomini sono coinvolti nella penitenza di Ninive. E con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio sopra queste creature e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua luce e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.